Siete pronti per questo, allora adesso è arrivato il momento, questo praticamente ragazzi dovete capire, questa partita che andremo a fare, queste partite, non serviranno solo a divertirci, perché da questo dipenderà il vostro futuro nel mondo degli esport, perché dovete sapere che dopo il sub giftato a self-made, il manager di Fnatic è venuto a vedere questo streaming e sta cercando nuovi talenti, quindi io non vorrei mettere pressione nel niente, però date un po' il vostro meglio, perché, cioè, capite, i Fnatic, vabbè che non c'è più Reckless, quindi perdono magari l'appetibilità di quel sexy wow, però, però, Sono pur sempre i Fnatic, non hai il flash, giusto? Sì, ok, facciamo finta che l'ho colpito lì, non so come non l'ho colpito, usciamo questa, usciamo questa, che non hai il TP, tranquillo, diciamo tutti quanti la stessa cosa, eh, pure io dico sempre, no, ma te lo volevo lasciare il carretto, mi è partito lo smite per errore, Ok Uh, bella questa, te lo fai pure, mi sa, sai? Ok Complimenti Pierpa, Vivo sarebbe stato molto fiero di te in questo momento, ci avrebbe avuto un pochettino l'occhietto lucido, quindi secondo me il posto sta andando bene per prenderlo Ok, io ci credo, complimenti, oh, Pog! What? 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 L'avete visto anche voi? Mi sembra che il mio panzone fosse passato attraverso l'avversario, allora, vogliamo rischiarcela da avere i giocatori di LCS? Attento, 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 attento Ok Sì, ci conviene iniziare a fare la corsa più veloce del West 3 secondi blocco, ecco, lo blocco io, lo blocco io Scappa Scappa, 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 scappa da ogni via It's ok, it's ok Non c'ho mano, vediamo se riesco a recuperare un mano per la Q A posto, ragazzi, abbiamo calcolato, volevamo resettare più in fretta Dovrebbero avere l'uovo tra tipo 60 secondi, mi pare Ehm, posto appena dopo il grump che recupero mano Ci sono Lanterna? Ok, faker Arrivo in top Ci sono anche io Quando vuoi top Oh, guarda qua, c'è Ecco Pronto che lo ammazziamo Ok E' andata abbastanza bene La tua R è stata come la mia panzata prima che è passata attraverso tutto Tranquillo, è tutto calcolato Ci suggeriscono dalla chat una competizione che effettivamente potremmo anche andare seriamente a prendere in considerazione Non so se c'avate pensato al par MSI Lì, più o meno, secondo me, qualche chance di vittoria Ce l'abbiamo Ok Io vorrei fare l'agguato al top nemico qua dietro Appena si presenta Appena pushi sta wave passa avanti Attento ora, attento ora, attento ora E poi rientriamo adesso Con me qua Tre secondi, ok? What? Il cos'è di ucciso? Ma vabbè Nihal, ma senti Allora Ilissang Ilissang, per favore Il 100% di winrate su Trash Arrivo pure io Allora Allora, io voglio fare l'assist per uccidere Trash Allora, senti, ho passato l'intera vita a venire trollato Oggi è il primo giorno che ho quella sensazione di poterlo essere io trollato No, ha ragione, ha ragione, ho sbagliato Arrivo, arrivo Ok, qualcosa è andato storto Mi sa che me ne esco con molta nonchalance Sarà che Anivia ha fatto tipo 100-0 così dal nulla No, 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 evita No, 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 ma non mid-diff Ok, Anivia è un bel champion bilanciato, ho detto Allora voglio fare il drago Per me lo possiamo pure lasciare Non ce n'è bisogno veramente Ok, bike, I'm watching Ok Ragazzi, scusate ma è normale Adesso dopo loggiamo l'altro account, quello Grandmaster Esatto, esatto Questo è semplicemente per prendere un pochettino la mano così Per vedere le sinergie di team Io ho pure adeggiato la cuù Ma io ho adeggiato la cuù con quel flash Aspetta, che vuol dire si è mossa un sacco Vediamo se riesco a Vediamo se No Ho messato lei là Allora io ho messato Cioè il mini mi ha bloccato Allora l'ho meritata? L'ho meritata questa? Allora io Non lo so Prima mi dite facciamo fare la penta check Poi instant mi stirate la kill Ditelo Ditelo che mi volete triggerare Oh arrivo Ok credo di essere stato cancellato qua E sono stato cancellato Abbastanza rapidamente da Anivia Soltanto 1500 danni Anivia mi ha fatto 1500 istantanei Su 1900 Quasi Quasi Ma la cosa divertente è che Anivia È talmente bilanciato come champion Che sta tenendo a galla L'intero team da solo Con la R Tra minion tolti di mezzo E kill Ok Ok Pa Vedo che c'è un po' di Aston Con fronte di Anivia Ok Ok Luxio camminavo dritto comunque Ragazzi la vera sfida di questo game è riuscire a vincere contro Anivia senza usare il Baron No qua non ci conviene Non ci conviene aspettarli che vengano loro un pochettino più avanti Forse due torri del Nexus sono un po' troppe Ragazzi io però vorrei Per rendere questo game più piccantino Di non poter utilizzare il Baron per vincere Ci state? Mi seguo? Ci sono? Ci sono laterale? Mi fido di voi qua per l'ingaggio Ok Anivia Morto pure ecco What? Il muro mi ha bloccato dal fare la combo per bene Fantastico stasera No sapevo Se mi tira la E Se mi tira il muro durante la mia E Mi sposta alla direzione della E Perché League of Legends è un gioco fatto veramente benissimo come scrittura Non so se lo sapete Se tipo fate tipo la ulti di Sion E vi compare un muro davanti Vi parte al contrario Seppure se vi si mette un minion davanti Perché a vincere siamo capaci tutti Ma a vincere così Non tutti ci riuscirebbero E' lì che i Fnatic rimarrebbero impressionati da voi ragazzi Ok Sto arrivando Sto arrivando Bel grab comunque Neal Visto E mira questa Ok ha flashato pure lei Era tipo l'attimo di panico Fugace attimo fuggente Cazzo sono morto Tanto per forza dobbiamo prendere qualcuno di loro Oh forse Sion Questa veramente un Tato Instant là Ah Tato messo Tato Buona vigilia Come stai Ok E' not ok Lux ci ha salutati Oh oh Addio Neal No no La sfida è quella Scusami Ma sei un cheater Cioè Dillo che allora sei un cheater Ho di nuovo la ulti Sei pronto Uff 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 Shoutplay Di qua Brum brum Occhio da Nivia Vedete dov'è Nivia Ah era morta Oh Allora io Ah Tone Con 5 mesi di fila Buona vigilia Che era un peccato il pugiglione Ok Lux Lux Ce la facciamo Let's go Buona tua ciacca Anche se Piccolo Questo è il mio regalo Grazie mille per il supporto Adanel Buon cadere il pugiglione Buona vigilia E buon Natale Caro Quante ce ne hai? Ma sono tutte offerte da Lux? No C'eravamo quasi fatta C'eravamo quasi fatta